Rafa Marin sarà il primo acquisto del Napoli che verrà. Gli azzurri hanno selezionato la difesa come primo settore da puntellare per regalare ad Antonio Conte almeno due centrali di livello e la scelta è ricaduta sul difensore spagnolo classe 2002. Vanno ora sistemate le cifre relative alla futura recompra che il Real Madrid, club che ne detiene il cartellino, vorrebbe applicare con una clausola inferiore ai 30 milioni di euro proposti dal Napoli. E' cambiata anche la formula d'acquisto, non più prestito con diritto obbligo di riscatto legato ad alcuni obiettivi ma una cessione a titolo definitivo intorno ai 10-12 milioni di euro. Marin aspetta solo la chiamata azzurra per sostenere le visite mediche ed è pronto a firmare un contratto di 5 anni con il club campano. Intanto il DS Manna continua a lavorare per un altro colpo in difesa e prova a beffare la Roma per Mats Hummels, centrale navigato in uscita dal Borussia Dortmund. Conte ha sempre apprezzato avere dei profili di solidità ed esperienze in squadra e un parametro zero come il tedesco verrebbe a costare meno anche in termini di ingaggio rispetto a Dermoso dell'Atletico Madrid. L'ormai ex bandiera giallonera, che piace molto a Daniele De Rossi, ha recentemente smentito un presunto accordo con il Mallorca e da considerarsi a tutti gli effetti uno svincolato in cerca di squadra.